Impariamo le best practice di JavaScript. Ciao, io sono Michele e in questo video vediamo le migliori pratiche per scrivere codice JavaScript pulito e che sia facile da manutenzionare e evitare gli errori di base. Quindi, entriamo subito nell'ambiente di sviluppo e vediamo come fare. Eccoci qui nel nostro ambiente di sviluppo. Allora, vediamo delle pratiche comuni che puoi adottare quando scrivi codice JavaScript per evitare gli errori più banali e avere codice più pulito. Allora, la prima regola che mi sento di dire è quella di evitare l'uso di variabili globali. Ingrandiamo un po', facciamo così. Ecco. Evitiamo l'uso di variabili globali. Queste sono variabili che vengono dichiarate di solito all'inizio di script o cose del genere e che sono disponibili in tutto il programma, visibili da chiunque. E queste sono, diciamo, una pratica da evitare in tutti i linguaggi di programmazione, non solo il JavaScript, perché non si sa mai, non è mai chiaro chi le utilizza e chi ne può sporcare il valore, anche quando meno ce l'aspettiamo. Quindi cerchiamo di ridurre praticamente a zero, di minimizzare l'uso di variabili globali, sia essi siano per tipi di dato stringa, numerico, oppure anche oggetti, ma anche variabili che contengono funzioni. Ti ricordo che l'abbiamo visto nei primi video, il codice delle variabili JavaScript possono puntare a delle funzioni. E quindi invece che usare l'uso di variabili globali, mettiamo no, mettiamo qui invece un sì. Che cosa faccio? Oddio, ho la tastiera impostata in... ok. Mettiamo un sì a cosa? Uso di variabili, variabili locali. Ok, quindi c'è da prendere bene confidenza con quello che è il concetto di scope. Dichiariamo bene le variabili. Lo scope è, diciamo, sono quei pezzi di codici in cui le variabili vivono. E quindi prendere per bene confidenza con quello che è il concetto di scope e di closure, quindi l'uso delle variabili, delle parentesi graffe per dichiarare pezzi di codice. Quindi ripassiamo velocemente, si faccia let a uguale 1, 2, 3. Questa variabile è viva qui, è viva qui dentro ed è viva anche qui dentro. Mentre se io facessi un pezzo di codice così, scrivo let b, magari... ecco, magari un ciclo for, il primo che mi viene in mente, la variabile index vale solo finché vive questo ciclo for, quindi la posso utilizzare qui dentro. Se dichiaro una variabile b, ciao, la variabile b esiste qui, ma non esiste qui, e non la potrei utilizzare. Quindi la variabile b vale qui, vale qui, qui la variabile b non la trovo. La variabile z che ho dichiarato qua, la variabile a che ho dichiarato qua in alto, la trovo, la posso utilizzare qui, la posso utilizzare qui, la posso utilizzare qui, e così via, la posso anche utilizzare qui. Ok? Quindi attenzione dove si dichiarano le variabili. Quindi abbiamo detto no globali, sì locali. Un'altra pratica, best practice, direi che dichiara le variabili tutte in alto. Eh, diciamo così, dichiara le variabili in alto. Questo ci darà un codice più pulito, ci formerà un singolo posto dove cercare per... dove sono state inizializzate le variabili, senza dover cercare nel codice di qua e di là. E' più facile evitare l'uso di variabili globali, perché se mi sforzo di dichiarare tutto nello stesso punto in alto, ovviamente non faccio l'uso di variabili globali, e riduco la possibilità di dichiarazioni doppie. E quindi magari dichiaro una variabile in alto, poi ne dichiaro uno sotto con lo stesso nome. Let persona, numero, parola. Queste sono tre variabili che ho dichiarato all'inizio. E uso dopo. A persona, assegno Michele. A numero, assegno 1, 2, 3. Questo va qui. E a parola, parola, assegno ciao. Ecco, quindi questo è dichiariamo in alto, uso dopo. Un corollario di questo, quindi io lo chiamerei un 2.1, se possibile inizializza subito le variabili. Ok, non è dato... Questa è una regola... Queste regole sono praticamente valide per quasi tutti i linguaggi di programmazione. Non solo di JavaScript, quindi sono best practice che ti puoi riciclare ovunque in tutta la tua carriera da programmatore. Ancora meglio, se facciamo per esempio let numero uguale 123. In questa maniera proprio sto inizializzando, inizializzo. Cioè dichiaro la variabile e nello stesso momento gli assegno anche un valore. Questo ci dà la possibilità di avere codice ancora più chiaro perché nel momento in cui io dichiaro la variabile so subito che valore ha. Quindi nasce già inizializzata. Non è detto, non vale per... E vale un po' per tutti i linguaggi. Che sappiamo con certezza, anche magari se la documentazione del linguaggio ce lo dice, qual è il valore di default di una variabile. Let numero così, io non so che cosa ci sia dentro, ok? Non ne ho il completo controllo. Potrebbe esserci un qualcosa che rappresenta un nullo, un numero casuale, non lo so, ok? Se invece io ho già un'idea o magari può essere anche subito una buona pratica, metterci uno zero se non ho un valore ben specifico da cui far partire. Ma in questo modo io ho il controllo e so già da subito che cosa c'è dentro in questa variabile. Codice più chiaro. E soprattutto evito valori non chiari, non noti. È subito chiaro che da cosa vale questa variabile. Un'altra pratica che io andrei a indicare è 3. Metterei dichiarare gli oggetti come const. Quindi, facciamo ancora più chiari, gli object. Quindi quando ho una variabile che mi contiene un object, quindi non un numero, una stringa, ma un oggetto più complesso, se io lo dichiaro con const evito un cambio accidentale di tipo. Per esempio, se scrivessi let macchina uguale e faccio marca... Eh, no, così. Marca, ci scrivo Alfa Romeo. E poi qua dentro ci metto modello Giulia. Se io facessi macchina uguale Ferrari, questo funzionerebbe, ma mi cambierebbe anche il tipo di oggetto contenuto nella variabile macchina. Qui ho un object, quando sono qui ho un object, obj, quando sono qui ho una stringa, ok? E ho questo cambio che non è ben chiaro, non è bello esplicito, perché se io all'inizio comincio a leggere del codice, dove all'inizio ho la variabile macchina che contiene un oggetto che rappresenta una macchina, e più tardi nel codice invece questo è una stringa, possono venire fuori degli errori involontari, anche un po' grossolani. Allora facciamo così, mettiamo const, in questa maniera questa cosa, che sia un macchino uguale Ferrari, non è possibile, verrebbe proprio fuori un errore, perché vado a cambiare la tipologia che con const, in questa maniera, non funziona. Attenzione, questa cosa mi impedisce di fare anche questa operazione, ok? Se io scrivessi così, otterrei un errore, perché sto cercando di cambiare un oggetto che è stato dichiarato const, che deve rimanere fisso. Questa operazione dà errore, anche questa. Quello che posso fare però è scrivere macchina.modello uguale Giulietta, ok? Questo invece è consentito, perché vado a cambiare una proprietà, non l'intero oggetto, per dirla semplicemente. Un'altra cosa che possiamo fare, la metto qui, è 4. Non usare la sintassi new object. Mi spiego meglio. Invece che fare, dichiariamo gli oggetti tipo let s così, per fare una stringa vuota, invece di, questo mi piace, nel senso questo metto ok, faccio let ss uguale new string, mettiamo ko, facciamo così perché, di nuovo, ci attacchiamo un po' al concetto di inizializzazione, è molto più chiaro che cosa c'è dentro. È molto più esplicito, è molto più visibile, ok? Invece che fare, un altro esempio, è let n uguale, diciamo, 0, questo è ok, let new number, questo è così, questo è ko, non lo facciamo. Un'altra cosa, attenzione, che javascript, facciamo 5, è un linguaggio, facciamo attenzione alle conversioni di tipo, ok? javascript è un linguaggio non tipizzato, o come si dice in inglese, loosely typed, o non tipizzato in italiano, il che significa che le variabili non hanno un tipo fisso, per spiegarlo molto velocemente, cioè io qui a let, a ci posso assegnare in questo momento una stringa, ma subito dopo a ci posso assegnare un numero. Questo è possibile in javascript e nei linguaggi non tipizzati, mentre per esempio se prendessimo il csharp, questa cosa non sarebbe possibile. Una variabile ha un tipo e può contenere solo un certo tipo di dato. Quindi se dichiaro una variabile stringa, e ci metto dentro una stringa, poi non mi posso inventare di metterci dentro un valore numerico. In javascript sì, è uno dei punti dove bisogna prestare particolarmente attenzione, per cui, di nuovo, attenzione alle conversioni di tipo automatiche, che possono avvenire quando per esempio facciamo delle concatenazioni di questo tipo. Scrivo 1 più 1, in questo caso quello che ci ritroviamo dentro la variabile c, dentro c c'è scritto 11 in formato testuale, lo vediamo, eh. Ctrl C, lo vediamo qui, ingrandisco, però se lo facciamo, lui ci scrive così, però se lo facciamo C e gli chiediamo il valore, vedete viene fuori, non è un 1 più 1, 2, ma è un 11, perché questo 1 viene preso, trasformato in una stringa e usato il più come operatore di concatenazione, non di somma. Quindi attenzione a queste cose, dovute al fatto che è un linguaggio non tipizzato e che ci sono anche delle conversioni di tipo automatiche. Sempre più o meno su questo argomento, io direi 6 utilizza l'operatore di uguaglianza, quello con i tre uguali, lo strict, ok? Perché qual è la differenza? Che questo qui utilizza, fa una conversione di tipo, in maniera tale che cerca di far combaciare i due tipi di oggetti, i due tipi di valori che stiamo, di variabile, che stiamo cercando di confrontare, quindi fa delle conversioni di tipo automatico. Quello con, lo strict, quello con i tre uguali, non fa conversioni di tipo, ok? E quindi, che cosa succede? Vediamo degli esempi pratici, che se io scrivessi 0 uguale con questo, così, mi verrebbe fuori un true in JavaScript, perché ci sono delle conversioni di tipo dove viene convertita la stringa vuota con un numerico, si cerca di convertirlo nel valore numerico corrispondente e di default è lo 0. Ma, in realtà, dire che 0 è uguale a stringa vuota non è proprio, non ha proprio tanto significato, no? Quindi, invece, se noi facessimo 0 triplo uguale doppio apice ci verrebbe fuori un bel falso, perché sono proprio anche dei tipi diversi, ok? Allo stesso modo è ancora più, è ancora più potente da vedere 1 uguale 1 così in JavaScript con il doppio uguale ci verrebbe fuori true invece 1 triplo uguale con lo strict così questo è falso perché c'è un tipo diverso in mezzo 1 numerico è diverso da 1 stringa sono due cose completamente diverse ti invito a provarle nella console del browser degli strumenti da sviluppatore e verificare tu stesso e fare anche un po' di altre prove che ti possono venire in mente su esempi di questo tipo bene abbiamo finito abbiamo visto 6 best practice di JavaScript da utilizzare sempre e che dovrai ricordare per tutta la tua carriera da programmatore se questo video ti è piaciuto metti un mi piace iscriviti al canale così sarai notificato dell'uscita di nuovi video immediatamente ciao ciao